Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie che si apre con la cronaca, con la notizia arrivata nella giornata di ieri dalla Svizzera relativa alla Balanga che a travolte ha ucciso un domese. Allora sentiamo chi era la persona rimasta uccisa dalla neve. Non è ancora stata stabilita la data dei funerali di Piercarlo Cesati, l'escursionista domese di 68 anni, morto travolto sabato pomeriggio sulle nevi svizzere dell'Alto Vallese. L'incidente si è verificato attorno alle 15. Gli escursionisti ossolani e un gruppo di quattro persone si trovavano nella regione di Reckingen quando durante la discesa sono stati colti dalla Balanga. La massa di neve ha investito due dei quattro componenti. Il gruppo a prestare i primi soccorsi e i feriti sono stati i due amici rimasti illesi. Per Cesati, nonostante i soccorsi tempestivi, gli amici li hanno liberati dalla neve in poco tempo. Non c'è stato nulla da fare, secondo quanto riporta la polizia accantonale vallesana, espirato sul luogo della tragedia a causa delle ferite riportate. L'altro ferito è stato invece elitrasportato dall'Air Zermatt all'ospedale di Visp. Il pubblico ministero vallesano ha aperto un'inchiesta sul luogo dell'incidente, oltre al personale medico svizzero, anche la polizia accantonale della Vallese, il soccorso regionale della valle di Goms e naturalmente l'Air Zermatt. E ora invece tutti gli aggiornamenti che arrivano dalla fronte pandemia dall'unità di crisi della regione Piemonte. Oggi l'unità di crisi della regione Piemonte ha comunicato 3.584 nuovi casi di persone risultate positive alla Covid. Diminuiscono ancora i ricoverati in terapia intensiva, ora sono 99,5 in meno rispetto a ieri. I pazienti non in terapia intensiva sono 1.935, con un scarto di 8 rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 99.713. Sono 4 nessuno di oggi i decessi di persone positive alla testa della Covid-19 comunicati. Stabile il dato del VCO, con 412 decessi da inizio pandemia e 1.025 nel Novarese. I pazienti guariti diventano infine complessivamente 804.801, 6.134 in più rispetto a ieri. Da qualche giorno Piazzale Flaima-Intra è tornato ad essere ad esclusivo e pannaggio degli automobilisti, già perché è stata smontata la ruota che qualche polemica ha creato. Smontata la ruota panoramica in Piazzale Flaima-Intra, l'attrazione con i suoi 34 metri, la più alta d'Italia, ha lasciato la città dopo diversi mesi. Era infatti stata allestita lo scorso maggio. La sua presenza aveva però diviso le opinioni, da una parte chi l'ha apprezzata, fotografandola e postandola sui social, chi invece l'ha contestata. Sull'argomento ha presentato un'interpellanza il consigliere comunale a Talla Fara, che ha chiesto delucidazioni su autorizzazioni, permanenza e modalità, oltre ai dati sulla ricaduta turistica, sottolineando in particolare come abbia sottratto parcheggi in Piazzale Flaima. Ha risposto l'assessore alla Polizia Municipale, Patrick Rabaini. La ruota occupa 18-20 posti auto su 3.000 intra e quasi 10.000 disponibili in tutta la città. Tutte le questioni sollevate con questa interpellanza potevano trovare soddisfazione con un accesso agli atti. Tutta la documentazione è disponibile negli uffici e per qualsiasi consigliere comunale. La ruota è la più alta d'Italia, di recentissima costruzione, ha tutte le autorizzazioni necessarie. Ha aggiunto Rabaini, l'occupazione solo pubblico, come tutte le altre attività, sarà pagata secondo i regolamenti stabiliti con l'emergenza pandemica e così per la Tali. È un'attrattiva turistica, anche se chiaramente non abbiamo chiesto studi sulle ricadute. Sicuramente tantissimi hanno fotografato la ruota postandola sui social, ci sono stati diversi articoli anche in altre parti d'Italia. Il fatto che sia un'attrattiva è dimostrato anche dal fatto che il gestore aveva firmato un precontratto con la Rai per utilizzarla a Sanremo e per realizzare le interviste. Poi tutto è saltato a causa del Covid. Farasi è detto non soddisfatto delle risposte dell'assessore. Ora la linea Daniele Piovera per Domenica Sport e allora sentiamo tutte le notizie della Domenica Sportiva. Grazie, grazie della linea. Domenica Sport è interamente dedicata al calcio, si è giocato in Serie D e in eccellenza e anche in promozione con due recuperi. Il primo nella serata di sabato con la vittoria 3-2 della Chiavazzese contro il Lepiedi Molera e il secondo quest'oggi sempre in promozione con la vittoria 2-0 della Sparta Novara contro la Juve Doma. Andiamo invece a vedere i risultati relativa a classifica del programma di Serie D, Serie D attesa da un vero e proprio tour de force già cominciato con i turni farsettimanali e con il prossimo che ci sarà tra dieci giorni. Asti Borgosesi a 2-2, De Artona Caronnese 0-2, Vado Casale 1-4, Sestri Levante Fossano 1-2, Ligonna Gozzano 0-0, dodicesimo clean sheet per il Rosso Blu, Bralabagnese 1-0 il Novara con un gol di Benassi su angolo di Gonzales, vince 1-0 al Franco Ossola contro il Varese, RG Ticino Saluzzo 1-0, Imperi a Chieri 0-0, Sanremese Pondonaz 2-0. La classifica con Novara in vetta e in fuga con 50 punti più 10 sulla Sanremese, anche una partita in meno per gli azzurri rispetto ai Liguri. Varese terzo a 39, De Artona 34 con il Lachieri, Lagozzano in piena zona playoff a 33 con il Braborgo, Sesia 32, Casale 30, Pondonna Zevado 28, Sestri Levante 26, RG Ticino 25, Ligonna 23, Asti 21, Caronnese 20, Fossano 19, Imperio Lavagnese 17, chiude il Saluzzo, ormai sembra destinato alla retrocessione. Chi invece lotta per non retrocedere sta facendo molto molto bene la RG Ticino, terza vittoria casalinga consecutiva, quarto risultato utile di fila, 1-0 al Saluzzo. Un altro successo casalingo per l'RG Ticino che supera di misura 1-0 il Saluzzo e trova il quarto risultato utile consecutivo in questo 2022. Per il primo quarto d'ora non si assiste a vere occasioni. Si fa vedere al sedicesimo puntoriere che in area cerca la rasoiata, ma il portiere blocca terra senza problemi. Poco più tardi, dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, Longhi spizza di testa in area, ma il pallone termina alto sopra la traversa. L'RG Ticino ci riprova ancora al ventunesimo, ma Virano è attento sul tiro di Longo da fuori. Il Saluzzo si vede poco, da segnalare solo una debole conclusione al quarantaduesimo che non impensierisce Oliveto. Il primo tempo si chiude senza reti. Nella ripresa passa appena un minuto e sbrissa impegna il portiere avversario con un tentativo da dentro l'area che però viene respinto. Al quarto è pericoloso puntoriere, ma ancora nulla di fatto. L'episodio chiave del match è al dodicesimo, quando Longo viene atterrato in aria e guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Longo, ma Virano intuisce e para. L'azione prosegue e su un pallone vagante Lionetti con un siluro dalla distanza insacca in rete per l'1-0. Dopo aver sbloccato il risultato, l'RG Ticino va alla ricerca del raddoppio. Vitiello ci prova al diciannovesimo con un diagonale da posizione defilata, ma ancora nulla di fatto. Gli uomini di Costantino sono anche sfortunati perché al ventisettesimo, ancora Vitiello, dopo una spizzata di testa di sbrissa, controlla il pallone in aria e calcia, ma colpisce la parte bassa della traversa. Nel finale il Saluzzo tenta il tutto per tutto. I padroni di casa sono pericolosi in contropiede e nel recupero hanno la chance per il 2-0 con Battistello, che però spara alto. Si chiude 1-0. Altri tre punti fondamentali nella corsa a salvezza per la squadra di Costantino. Andiamo adesso a vedere il quadro dell'eccellenza, una giornata che rischia di diventare molto importante. Bavino-Borgo-Vercelli 1-0, Accademia-Borgo-Manero-Tarino 3-0, settimo Pianese 2-1, Fulgor-Valdengo-Leggio 1-1. Ecco perché rischia di diventare importante. La bielese cade clamorosamente in casa. 2-1 contro la Proeureca. Per la verità lo Stresa non ne approfitta più di tanto perché solo nel finale pareggia 1-1 con Secci sul campo della Dufoura. Greville-Venaria 4-1. Il Verbagna va in vantaggio con il solito Usei, poi però viene prima agguantato e poi superato dal Borgaro, che vince 2-1. Classifica dopo 20 giornate lo Stresa con 41 punti, la bielese 38 e una partita in meno. Leggio a 38, Accademia-Borgo-Manero 35, settimo 33, Borgaro 31, Greville 29, Proeureca, Salia 26, Pianese 24, Venaria 23, Fulgor-Valdengo, Trino 22, Alicese 21, Verbagna 20, Baveno 17, Dofur-Varallo 8, Borgo-Vercelli. Sempre più ultimo con 7 punti. Andiamo a vedere il Tris dell'Accademia contro il Trino con Maurizio Ferlaino. Seconda vittoria consecutiva per l'Accademia Borgo-Manero che priva del suo allenatore Molinario e con una squadra ricca di giovani è riuscito a sbaragliare il Trino per 3-0. Andiamo in cronaca. Al quinto, la prima occasione per i padroni di casa. Bella incursione di Pagliaro che si mette in proprio salta a tre avversari. Ottima l'uscita di Cioffi che respinge il tiro finale. Al decimo, la risposta del Trino. Tiro da fuori aria di Daidola, palla alta. Sugli sviluppi del corner, Baggio di testa, manda a lato di poco. Ancora Trino al 33esimo. Tiro dalla lunga distanza di Peretti, non lontano dal traverso. Al 34esimo, occasionissima per l'Accademia. Cross dalla sinistra per Bressan. Tutto solo in aria di rigore, ma anda alto da buona posizione. Ancora Accademia al 40esimo. Bellissima imbucata di Pisanello per Pagliaro. Palla in mezzo per Sogno. Girata di prima intenzione. Miracolo di Cioffi che blocca. Il gol è maturo e arriva nel finale. Al 45esimo, ottima intuizione di Pagliaro che ruba palla sulla trequarta in uscita del Trino. Il 10, Rossogru prova la conclusione, ma il tiro viene ribattuto. Raccoglie Sogno che insacca davanti alla porta. Nella ripresa, la gara si chiude. Al dodicesimo, Giuliano ruba palla a centrocampo e rilancia il contropiede. Palla perfetta per Giordani che scatta sul filo del fuorigioco e una volta in aria trafigge Cioffi. Il gol del definitivo 3-0 arriva al 26esimo. Calcio d'angolo di Pagliaro dalla destra. Stacco perfetto del capitano Samina che la piazza sotto l'incrocio dei pali. Il Trino si affaccia dalle parti di Galli solamente al 32esimo con Capocchiano. Buono il controllo in aria di rigore e tiro che però termina sull'esterno della rete. L'Accademia ottiene un'importante vittoria in vista della super sfida di domenica prossima contro lo Legge in trasferta. Per il Trino una partita che deve fare a riflettere in vista dello scontro diretto con il Baveno. E a proposito di Baveno andiamo a vedere la vittoria 1-0 contro il Borgo Vercelli il gol di Vanzana e di Marchionini come detto nel servizio. Seconda vittoria consecutiva per il Baveno che nello scontro salvezza la Galli supera 1-0 e la Borgo Vercelli aggiunge altri tre punti alla sua classifica di fatto condannando quasi la Borgo Vercelli alla retrocessione. Una partita bloccata nel primo tempo per buona parte della ripresa. La prima occasione al 24esimo con un tiro di Gerbaudo che però non crea problemi a Poletti. Al 29esimo di Leva invece è providenziale a salvare sulla linea il colpo di testa di Cambocco la palla che era destinata a finire in rete al 44esimo proteste del Borgo Vercelli per un presunto tocco di mano in area. Tutta qui la crolanca del primo tempo. Nella ripresa al sesto punizione di Marchionini Cavagnaro alza sopra la traversa al 15esimo il tiro di Tettamanti che converge il suo destro a giro però è impreciso al 21esimo providenziale uscita bassa di Cavagnaro che anticipa Austoni al 22esimo la situazione simile nell'altra area questa volta Poletti sbaglia i tempi dell'uscita perde la sfera tiro cross da terra di Cambocco e mette i bribidi al Baveno al 29esimo Romano si divora il gol del vantaggio a 2x2 con il portiere ospite perde il tempo la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo al 39esimo però il Baveno trova il gol decisivo sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla termina proprio a Romano che calcia il suo tiro diventa un cross involontario per Marchionini che ci mette il piattone e segna il gol decisivo nel finale il Baveno rimane in 10 per l'espulsione di Van Zand 4 minuti di recupero non succede nulla vince 1-0 il Baveno e ripeto dunque il gol decisivo di Van Zand e non di Marchionini come vi ho detto in apertura in promozione nell'anticipo di sabato la Chevazzese ha battuto 3-2 il piede di Molera oggi invece la Sparta-Novara ha sconfitto 2-0 la Juve Domo con lo Sport e con Domenica Sport noi chiudiamo la linea può tornare Maria Cazzevarano Grazie Daniele in chiusura di giornale invece vi proponiamo le interviste che abbiamo realizzato a Domodossola in occasione della presentazione di quello che sarà il film che sarà girato in primavera in diversi centri dell'Ossola dal titolo Il violinista tratto da un lavoro da un libro dello scrittore domese Alessandro Chiello sentiamo Sarà girato all'inizio della prossima primavera il film Il violinista una sceneggiatura tratta da un racconto di Alessandro Chiello che sarà ambientato nel VCO e che è stato presentato nel fine settimana nella Cappella Mellerio a Domodossola un film drammatico che ha come protagonista principale maschile Edoardo Romano un nome importante della scena teatrale italiana con un cast per lo più locale ma di nomi già molto esperti la presentazione nei giorni scorsi a Domodossola un film che vuole essere anche una promozione per tutto il territorio La sua prima volta a Domodossola che impressione ha avuto? Beh devo dire una bella impressione perché a Domodossola non ci sono mai stato e la conoscevo attraverso lo spilling di come Domodossola però per quel poco che ho visto da stamani che sono arrivato qui ho visto che c'è intanto un bel un bel centro un bel borgo come 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 di prassi in queste zone e quindi sono contento che poi vengono sottolineate attraverso il film quindi diciamo che sarà tutta una scoperta per me una sorpresa Il film un film drammatico ha detto Un film drammatico che che ho sposato subito perché la storia che mi hanno raccontato inizialmente poi quando mi hanno dato il copione è molto bella molto intensa molto con delle punte di drammaticità che a me piacciono e c'è ma tu sei nato come attore io non non faccio il comico non ho mai fatto il comico io mi ritengo un ironico uno che fa divertire e riesce a far ridere anche parlando seriamente quello per me è il comico e quindi poi evidentemente ritorno al al ruolo drammatico come ho già come ho già interpretato nei film di pupiavati e anche in alcune commedie teatrali e mi piace molto di più infatti se mi dovessero proporre un film comico una cosa comica piuttosto che una cosa drammatica io preferisco quella drammatica perché dentro di me c'è quella drammaticità che mi piace esportare quindi in primavera la vedremo qui sì in primavera sicuramente sono qui oggi è una bellissima giornata ma sarà ancora più bella ad aprile quando inizieremo a girare il film qui Davide Mangacci Domodossola la conosceva già e noi la conosciamo non solo per il piccolo schermo un ritorno a Domodossola impersonerà il prete di questo film sì dunque intanto sono felice di essere tornato a Domodossola che ho trovato più bella di quando la frequentavo con i miei programmi stiamo parlando di io credo di aver cominciato a venire a Domodossola con la domenica del villaggio intorno agli anni dunque poteva essere il 97 il 98 credo poi sono tornato altre volte con altri miei programmi Fornelli d'Italia se non ricordo male forse anche ricetta l'italiana però come ripeto l'ho ritrovata più bella non so se è una mia impressione o se veramente qualcosa è cambiato in meglio nella città però sono proprio contento di essere qui per quanto riguarda il ruolo che interpreterò spero in modo dignitoso in questo film Don Andrea il parroco di questo ipotetico paese piemontese nel quale si svolge la vicenda drammatica del film il violinista ecco spero di non deludere tutti quelli che mi hanno dato fiducia chiamandomi perché io non sono un attore sono un conduttore televisivo fare l'attore è un'altra cosa significa avere anche la padronanza di alcune tecniche che io non conosco però conto sull'assistenza e soprattutto sulla comprensione dei miei colleghi dei miei partner che dovranno avere molta pazienza forse la perderanno anche non sveliamo troppo ma il film racconta di un violinista chi è questo violinista? è un personaggio che il primo venerdì di ogni mese alle 10 e un quarto si presenta in piazza e fa un improvvisato concerto durante il film scopriremo i motivi di questo concerto cosa c'è dietro quale dramma si nasconde nel passato di questo violinista e in questo concerto ci sono 3, 4, 5 personaggi che sono i personaggi principali del film e le loro storie si intrecceranno e vediamo è una trama una sceneggiatura di cui siamo particolarmente orgogliosi ci abbiamo lavorato io, Mirko Fabrizio Rizzolo Isabella Tabarini e Giorgio Minelli un lavoro di parecchi mesi siamo molto soddisfatti e della sceneggiatura del cast che abbiamo messo un lavoro che trae spunto da un tuo racconto edito lo scorso anno si l'anno scorso ho pubblicato una raccolta di racconti ambientati tutti sul territorio il primo era Damwa che era il soggetto del film del cortometraggio che abbiamo fatto l'anno scorso e questo è il violinista di Piazza Mercato che è il soggetto di questo lungometraggio che gireremo a breve la cast è per lo più locale con qualche ritorno vogliamo citare qualche nome allora i protagonisti sappiamo sono Edoardo Romano e Davide Mengacci poi abbiamo il nostro Fabrizio Rizzolo che ha lavorato con me con Damwa abbiamo Sabellina Borsotti anche lei ha lavorato con noi che sarà la protagonista poi abbiamo un cast di cui veramente tutto della provincia in cui ci sono molti elementi Greta Gallotti Tiziana Zaccaria Daniele Primonato Sascha Trabletti e tanti altri che stanno lavorando molto bene sono orgoglioso di averli con noi un film che non sarà ambientato solamente a Domodossola ma vuole essere anche una vetrina promozionale per tutto il Verbano Cusiossola Assolutamente sì questo film vogliamo raccontare una bella storia con delle location bellissime abbiamo Santa Maria Domo Villa Vogogna a Premosello gireremo nella Villa Chiovenda che stanno ristrutturando molto bella abbiamo degli interni lì poi vogliamo andare sul lago Verbania sta valutando anche Verbania la partecipazione Omenia vogliamo veramente valorizzare il nostro territorio che è meraviglioso e a volte ce lo dimentichiamo Senti Alessandro qualche soddisfazione l'avete avuta anche da Damo avete partecipato di recente anche a festival importanti ci eravamo lasciati con un progetto di un festival che vi ha scelto come uno dei migliori corto come è andata a finire se è finita? Penso che il percorso sta continuando siamo molto contenti con Bartolucci e Lepri abbiamo fatto questo bel corto e siamo contenti dei risultati per il fine momento abbiamo partecipato a quattro festival Parigi Asti Salerno e Nuova Delhi e abbiamo vinto un bel premio a Salerno e siamo molto orgogliosi di questo Mirko tu sei il regista di questo film un film è stato già detto drammatico qualche particolare in più? forse il particolare più interessante sta sicuramente nel dramma perché dove c'è dramma c'è sempre storia quindi il dramma è fondamentale credo che sia trovare il giusto equilibrio tra leggerezza e dramma avere degli attori come avete visto in conferenza come Edoardo che è nel ruolo del protagonista che hanno entrambe queste sfaccettature nella propria anima è forse il dono più prezioso per questa storia perché c'è tanto dramma ma c'è anche la giusta ironia cioè il dramma va sdrammatizzato ecco quindi quello che abbiamo cercato in questi mesi in cui ci siamo trovati spesso sia qui a Domodossola che a Milano per cercare di creare il gruppo di lavoro il nostro obiettivo era proprio questo cioè riuscire a trovare qualcuno che fosse tanto profondo quanto anche verosimilmente leggero ecco credibilmente leggero andiamo sui risvolti tecnici quando si comincia a girare il film si comincerà verso fine febbraio abbiamo bisogno di due sessioni di lavoro perché abbiamo bisogno di due stagionalità nella storia quindi la prima parte appunto dove ci serve l'inverno una stagione fredda e poi una stagione più calda quindi poi ci rivedremo col gruppo di lavoro tra aprile e maggio poi il film avrà bisogno della post produzione per quando potrà essere pronto speriamo di essere pronti per la stagione estiva sarebbe un buon momento per proporre il film ai festival alcuni li andremo a bussare alle porte l'anno prossimo perché arriviamo un po' tardi però la maggior parte dei festival italiani sono ancora verso diciamo la fine dell'estate e l'autunno quindi potremmo arrivare a proporci in tempo un progetto che ha bisogno anche di finanziamenti per camminare a chi vi siete rivolti? realtà pubbliche tanto quanto realtà private è un film cinema indipendente non vuol dire che non costi perché anche se le cifre non sono così tante esorbitanti come le grandi come le grandi produzioni comunque il fatto di essere qua oggi trovo che sia forse una delle fortune più belle cioè nel senso che anche se non avevamo bisogno di centinaia di migliaia di euro abbiamo avuto la fortuna di trovare quello che ci serviva per produrlo quindi la risposta è stata buona è stata buona è stata interessante e su questo trovo che sicuramente riuscire anche qua sembra un po' come dire romantico ma trovare anche la sensibilità di chi decide di offrirti tanto poco che sia 5, 10 o 1000 è importante è bello avere appunto vedere l'emozione anche nelle persone a cui andavamo a chiedere soldi fondamentalmente è veramente tutto io mi fermo qui gli aggiornamenti sul nostro sito sulle pagine social grazie per essere stati con noi naturalmente buona serata grazie a tutti grazie a tutti